Non c'è tempo. Hanno scoperto il nascondiglio. Ce n'è già abbastanza per... Una fuga? Oh, pazzie. No, Franz Boe, è venuto da Micrana. Sa tutto, bisogna come sa. No, no, no! No, no! Speriamo bene. Ada non deve sapere. Non una parola, capito? Mi dispiacerebbe di lasciarci la pelle proprio ora che la liberazione è vicina. Qui andiamo a finire male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.